...e chiaramente ovunque, lo vedete? Questa era una delle nostre segnalazioni, poi vediamo di darvene anche altre. Ora trasferiamoci sulle strade a prevedere la situazione del traffico con la pallizia per l'anno. Buongiorno. Sì, buongiorno. La rientramizia per traffico in Pensen, in parte a Roma, sul tratto della via nazionale Roma-Sud, compreso il tratto Renova e il raccordo anulare, sempre sul raccordo con le incaseggiate interna tra Campidina e Poltina. Trafficato il tratto urbano della 24, tra il raccordo e l'attagio internazionale. Trafficata la stessa tangenziale tra via Salare e Vede Fauritarico in direzione dell'attagio politico. In direzione di Roma con le sula...